Siamo al segno dell'acquario, ancora una bellissima luna in mattinata, fortunatissima per le questioni economiche amici dell'acquario, quindi questo è il giorno giusto per parlare di denaro, di soldi, è una luna importante anche per i sentimenti, Venere ha già aperto una nuova strada in ambito sentimentale, qualcuno ha già fatto degli incontri interessanti e intriganti, qualcuno ha avuto modo di chiarire dei malintesi che nell'ultimo mese avevano un pochettino compromesso l'armonia di coppia, in serata la luna entra nel segno del cancro, nella normalità, nella routine, nella quotidianità troverete il vostro equilibrio. Chiudiamo con il segno dei pesci.